Finalmente il Parco Giochi per Bambini della Gammarana sarà ripristinato, certificato e sicuro. Presentata infatti martedì in Question Time l'interrogazione consigliare, dove alle richieste dei cittadini e alle nostre sollecitazioni sono state date e accolte, o meglio, dall'assessore Arramo, che ha garantito la volontà sua e dell'amministrazione di riservare una quota parte dei 100.000 euro messi a bilancio per questo scopo. Adesso attendiamo fiduciosi la concretizzazione della nuova installazione. Confermato inoltre anche il ripristino del gazebo in legno, che l'anno scorso fu rimosso appunto per evidente pericolosità, ecco, non possiamo fare altro che ringraziare per il momento l'assessore di Buonaventura, che con tempestività si è recato nella giornata di ieri nel quartiere per prendere atto e constatare di persona le criticità evidenziate a partire dai tombini e le caditoie strapiene. Per il momento è tutto, vi saluto. Ciao!